Noi stiamo intravedendo dei segnali finalmente di ripresa consistenti nell'eurozona, significativi anche nel nostro Paese, ma la dobbiamo accompagnare soprattutto nel mercato interno con investimenti, fiducia, capacità di promuovere nuove iniziative. E' anche per questo che il Governo si è mosso, non solo per evitare conseguenze negative nel territorio del Veneto, si è mosso ieri con la decisione che abbiamo preso che riguarda le due banche venete. Quando abbiamo deciso ieri di destinare 5 dei 20 miliardi stanziati con il decreto approvato in Parlamento nel mese di dicembre, 5 di quei 20 miliardi andranno all'intervento per le banche venete. Io mi auguro poi che la gestione dei crediti deteriorati, ai quali sono destinati in larghissima parte questi 5 miliardi, consenta di recuperarli in tutto e in parte nei prossimi anni. Dipenderà dalla qualità della gestione di questi crediti deteriorati e dipenderà anche in generale dall'andamento e dal miglioramento dell'andamento della nostra economia. Credo che sia non solo legittimo, ma doveroso per un Governo serio, per uno Stato come lo Stato italiano, farsi carico di problemi che possono intervenire nelle nostre imprese e nelle nostre banche. Sarebbe singolare il contrario. Ho sentito qualcuno parlare di regalo ai banchieri. Penso che chi fa un discorso di questo genere faccia della cattiva propaganda. Chi ha provocato negli ultimi 10-15 anni le difficoltà, le enormi difficoltà di queste due banche, naturalmente deve pagare e certamente non è ai responsabili di questo dissesto che si indirizza all'intervento del Governo. L'intervento del Governo ha in mente altri soggetti che non si vede perché debbano pagare. Parlo dei 2 milioni circa di clienti di queste banche. Parlo delle circa 200 mila imprese, in gran parte piccole e medie, che dal credito di queste banche dipendono. Parlo in generale dell'economia di un territorio, di una regione fondamentale nell'economia del Nord-Est, a cui il messaggio molto chiaro deve essere che lo Stato c'è, che il Governo interviene nel pieno rispetto delle regole dell'Unione Europea, ma interviene per attenuare le conseguenze di queste difficoltà e di questa crisi. Io questo obiettivo penso che vada rivendicato e penso che non sia solo del Governo, ma in un Paese come l'Italia debba essere un obiettivo largamente condiviso dal Parlamento. Crescita dunque, come nostro traguardo, che in tutti i modi dobbiamo cercare di incoraggiare. Abbiamo un'opportunità di fronte a noi che riguarda l'intera Eurozona, i dati ci dicono che anche l'Italia può coglierla, grandi operazioni di investimento come quella che abbiamo presentato stamattina, e di cui di nuovo ringrazio Enel, possono aiutarci in questa direzione.